Al telegiornale di Toscana TV iniziamo con una notizia di cronaca. Un quindicenne ha perso la vita finendo con il suo scooter contro un palo. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Capannori in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione il giovane poco prima della mezzanotte stava viaggiando in direzione della sua abitazione ma appena superata una rotatoria avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro lo spartitraffico che divide la carreggiata da una pista ciclabile. Lo scooter avrebbe a quel punto urtato un lampione a margine della strada e nell'impatto il ragazzo avrebbe perso il casco andando a sbattere violentemente la testa. I soccorsi sono arrivati subito, il 118, ma è stato un passante a dare l'allarme però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Parliamo adesso di prezzo del latte. Dopo la protesta a Grosseto, adesso anche ad Arezzo, i pastori hanno manifestato con le modalità ormai consuete partite dalla Sardegna e che hanno acceso i riflettori su questo problema. Qualche passo avanti è stato fatto ma è ancora insufficiente. L'obiettivo è quello di chiudere la campagna casearia 2018-19 con una remunerazione adeguata del latte. Allevatori e produttori di latte hanno manifestato stamani ad Arezzo. Le nostre preoccupazioni sono queste. C'è stato un tavolo di dibattito che è finito ieri sera in cui è stato fatto un prezzo minimo di 72 centesimi con la speranza che possa aumentare. La nostra preoccupazione è questa. Sta continuando ad entrare il latte dall'estero. Chiaramente non possiamo essere competitivi con il latte che arriva dall'estero in quanto non seguono le norme igienico-sanitarie che seguiamo qui. Non ci sono le tutele del lavoro o tutti gli obblighi che abbiamo noi nel fare il nostro lavoro. Quindi chiaramente entra il latte estero ad un prezzo molto inferiore rispetto ai nostri costi di produzione. Ci sono stati degli sviluppi anche nelle ultime ore che vi soddisfano? Da questo punto di vista sono attuali perché c'è stato un accordo su cui le parti stanno lavorando a 72 centesimi con l'impegno di portarlo entro un anno a un euro più IVA. Queste sono le intenzioni. Adesso l'accordo è ritornato alle parti e vedremo come si svolgeranno gli sviluppi futuri. Parliamo adesso della tramvia fiorentina non quella appena inaugurata che arriva fino all'aeroporto ma quella futura, la linea che dovrebbe arrivare fino a Bagno a Ripoli. Ebbene, per non perdere i finanziamenti europei questa linea va fatta entro il 2023. Questo significa che entro gennaio 2020 al massimo i lavori devono iniziare. È una linea però che non piace a molti. Nei giorni scorsi le proteste di Lega e Fratelli d'Italia che lamentavano il fatto che sarebbero stati tagliati molti alberi in Viale Giannotti nella zona sud di Firenze ebbene, adesso il no a questo progetto così com'è ad oggi arriva da una voce autorevole autorevole nel senso che potrebbe davvero mettere i bastoni fra le ruote al progetto così com'è ovvero la sovrintendenza delle belle arti. Sentiamo. Così com'è la nuova tramvia non si farà. Uno stop alle nuove linee della tramvia quella fino a Bagno a Ripoli arriva da Antonio Pessina sovrintendente delle belle arti. intervistato dalla Nazione è categorico la città pagherebbe un prezzo così alto che non ho intenzione di farlo pagare a me e ai miei uffici. Pessina aveva già tuonato quando comparve la foresta di Pali alla stazione ma troppo tardi per rimediare o per fare la voce troppo grossa visto che i progetti della tramvia erano comunque passati anche dalla sovrintendenza. adesso non ha intenzione di ripetere l'errore ci sono molti problemi di carattere archeologico che attendono di essere verificati nei prossimi giorni spiega ma il punto più insormontabile è la richiesta di abbattere tutti gli alberi di Viale Matteotti e a chi gli dovesse contestare un vabbè per quattro alberi Pessina specifica subito che si tratta di decine e decine di alberi voglio che i cittadini sappiano che la sovrintendenza ha detto no non saranno gli alberi piantati dal poggi ma sono comunque piante che restituiscono quel disegno di città è infatti questo che preoccupa Pessina le eventuali ripiantumazioni spiega sarebbero a una distanza diversa dalle case più vicini ai palazzi dove faticherebbero a crescere inoltre ricorda il sovrintendente sui viali c'è un vincolo paesaggistico dal 1955 il codice dei beni culturali stabilisce inoltre che tutte le vie e le pubbliche piazze sono esse stesse bene culturali e pertanto da tutelare proposte alternative non spettano alla sovrintendenza anche se Pessina si spinge a suggerire di usare al limite i controviali per la tramvia intanto nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i saggi archeologici l'altro problema sollevato dalla sovrintendenza sì perché sotto la lingua d'asfalto dei viali che di fatto sono la circonvalazione di Firenze grazie al progetto ottocentesco del Poggi ci sono ancora mura fondamenta porte d'ingresso alla città medievale un principio d'incendio ieri sera a luci cinema di Campi Bisenzio tutto risolto già oggi le sale erano aperte ma insomma molta paura sono stati evacuati un po' tutti ieri sera è stato senza conseguenze l'incendio che si è sviluppato ieri sera al cinema Uci di Campi Bisenzio a causa di un cortocircuito intorno a mezzanotte le 12 sale del cinema multisala per un totale di 1200 persone che non sono state coinvolte sono state evacuate in via precauzionale dai vigili del fuoco per un principio di incendio l'intervento dei pompieri di Firenze Calenzano e Firenze Ovest si è concluso intorno alle due e mezzo di notte sette dipendenti sono stati sottoposti in via precauzionale a controlli a causa dell'inalazione di fumo al più vicino pronto soccorso per essere poi dimessi dopo qualche ora inizialmente a causa del fumo presente il personale aveva provveduto a fare evacuare le prime quattro sale in attesa dei soccorsi dichiarata momentaneamente inagibile in attesa delle opere di ripristino solo la parte interessata dall'incendio che non pregiudica l'apertura e il funzionamento della struttura infatti tutte e 13 le sale sono già regolarmente riaperte e funzionanti l'evento è stato causato da un cortocircuito che ha interessato un monitor di servizio presente all'interno della multisala in una zona vicina al corridoio principale tutti i controlli e le procedure previsti per evitare e fronteggiare questo tipo di eventi di fatto già accurati saranno ulteriormente intensificati fanno sapere i gestori è da metà ottobre più o meno che la costa dell'illatro la spiaggia sud di Rosignano Solvè la zona delle spiagge bianche compare una schiuma bianca e granulosa il video che vedete è del tirreno nei mesi scorsi Arpat aveva già fatto delle analisi che avevano evidenziato che i sali di carbonato presenti nella schiuma sono degli stessi metalli presenti nei solidi scaricati dalla Solvè con grado di tossicità più alti nel rilevamento di gennaio rispetto a quello di ottobre per questo l'amministrazione comunale di Rosignano Marittimo ha incaricato direttamente l'asla di Livorno di capire quale sia il grado di tossicità a livello di salute umana di questa sostanza bianca e in colore a Firenze adesso a Palazzo Pitti c'è l'occasione di scoprire o riscoprire Kiki Smith è la prima mostra monografica in Italia dedicata all'artista Kiki Smith di Norimberga circa 40 opere esposte fino al 2 giugno nell'andito degli Angiolini di Palazzo Pitti che offrono un quadro esaustivo della produzione dell'artista degli ultimi 20 anni tra colorati arazzi in cotone jacquard fragili sculture in bronzo argento e legno e opere su carta è il progetto What I Saw on the Road che riunisce le principali tematiche dell'impegno artistico di Kiki Smith la corporeità e il corpo femminile in particolare che ha portato avanti per quasi tutti gli anni 90 nella produzione più recente invece esposta in mostra la sua riflessione si è allargata a considerare in maniera più articolata ciò che accade fuori dal corpo animali piante che alludono anche in questa preziosità e fragilità dei materiali proprio alla precarietà e alla vulnerabilità della vita e della condizione umana nel sistema appunto più ampio delle cose nella complessità nella complessità dell'esistente e raccontano appunto proprio lo sfondo comune che tiene avvinte tutte le creature appunto quindi da quelle animate a quelle inanimate fino appunto all'uomo in una visione che non conosce appunto alcun tipo di gerarchie quindi dove l'uomo è incluso alla pari con tutte appunto queste altre queste altre creature questa è la terza primavera che apriamo il programma espositivo con due mostre dedicate a donne artiste dopo Maria Lasnik e Maria Lai ora è l'artista contemporanea al centro della mostra è proprio Kiki Smith era una scelta per me molto ovvia e necessaria di scegliere Kiki Smith per questa mostra perché non avevo mai una mostra museale in Italia finora essendo tuttavia è uno dei personaggi più importanti di donne artiste degli ultimi decenni è stata un successo l'ultima giornata della sfilata del dragone che si è svolta a Prato tra le vie della Chinatown e quelle del centro storico in occasione dei festeggiamenti del capodanno cinese questa mattina oltre 1500 persone hanno partecipato al corteo che è partito da via Pistoiese si è concluso in piazza del comune al corteo coloratissimo curatissimo intriso di storia e folklore hanno preso parte anche alcuni italiani a dimostrazione di come questa festa sia ormai interculturale due di loro sono stati scelti anzi per la prima volta nei ruoli di principe e principessa ricordiamo che per i cinesi quest'anno si entra nell'anno del maiale parliamo adesso di salute perché la settimana scorsa con una legge piuttosto innovativa il consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una legge che consente di venire incontro ai malati di fibromalgia sentiamo ce la spiega questa legge il presidente della commissione regionale sanità la regione toscana fa propria un PDTA ed è un atto importante perché è un protocollo diagnostico terapeutico è un protocollo che definisce gli aspetti della malattia per quanto riguarda il modo come si manifesta il seguimento che le persone devono avere le cure gli aspetti farmacologici e soprattutto la declinazione del fatto se la malattia è di primo livello se è di secondo livello a secondo degli esami che possono essere quantificati questo può indirizzare i pazienti verso dei percorsi particolari questa è una malattia che oggi non è riconosciuta a livello nazionale è quindi una malattia che comunque ha bisogno di un seguimento perché produce un dolore fortissimo per le persone produce anche una impossibilità a lavorare una sorta di invalidità temporanea per le persone è uno di quei casi che abbiamo preso a cuore una battaglia iniziata nel 2016 proseguita nel 2017 abbiamo preteso che l'organismo di governo clinico regionale potesse definire questi aspetti in maniera scientifica e un atto di forza lo dico apertamente quello che fa il consiglio regionale perché avrebbe dovuto farlo la giunta noi lo facciamo perché vogliamo riconoscere questo protocollo e chiediamo con forza che l'atto pubblico che oggi noi approviamo possa poi essere divulgato potranno avvenire anche dei corsi specifici di attività fisica adattata in tutta la regione perché questo può essere un seguimento specifico che accompagna la cura che in molti casi viene fatta con degli psicofarmaci che poi devono essere segnati in maniera specifica da dei professionisti e ci deve essere poi un seguimento di equipi multidisciplinari che insieme a remotologi l'algologo e lo psicanalista o lo psicologo in casi particolari deve seguire il paziente noi non vogliamo abbandonare nessuno è il primo atto nella storia del nostro consiglio regionale che porta diciamo il consiglio regionale a fare proprio un protocollo diagnostico terapeutico però non potevamo più attendere perché le persone avevano bisogno di questa risposta Siamo al meteo in chiusura vediamo come sarà il tempo in Toscana per domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso per nubi basse tendenti a dissolversi nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in montagna i venti deboli di scirocco con rinforzi in arcipelago e sul litorale mari poco mossi localmente mossi in serata a largo le temperature in aumento le minime in pianura in lieve calo le massime sui rilievi è tutto grazie per averci seguito una buona serata grazie a tutti